Facciamo il carrozzo NIEH Guardi anche te, dai? Si Ti taglio la strada SI Mi sono schiattato con l'elicottero Si Si Iscriviti Succhi Succhi Si Succhi 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 Ora Succhi Si Tutto c'è 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 uno lì clicchiamo a nascondino ahia, sparano dietro dove? non lo so davanti, eccolo lì ho ucciso ucciso ma porca miseria, esci 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 ancora Timmy mi ha rotto il cazzo però questo qua ho ucciso anche me ma porca miseria ho caccia 2 2 dove è uscita? senza HP penso ma per la terra sono passata registra, 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 registra e forse ti arrivo su che cazzo è uscita? ho sentito il tuo rumore ma non te vedo che cazzo è uscita? siamo uno per cacchiare ecco te lì ahah bellissima cazzo che sta arrivando qua sotto 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 destra c'è visto attenzione eh sassato in arrivo quanto l'ho tirata io una sassata quando è verde non spararli madonna ma vaffa culo pesca miseria che cazzo? non li voglio non li voglio ma che cazzo sta andando ahhh mondo aspetta aspetta ciao uber f*** f*** una tante? oh ti ho salvato il culo ti ho salvato il culo da cosa? da quello che ti stava sparando ti ho salvato proprio le chiappette caro uber da questo non so se posso salvarteli da questo non so se posso salvarteli comunque ma c***** obiettivo bravo è neutralizzato dai va a c***** ne hai tirato subito c'è un carro là dietro eh dove? lì dove è venuto il giro di elicottero che non è amichevole immagino assolutamente no però noi potremmo fare il giro largo è arrivato sul fianco c***** eccove là è arrivato tipo una sassata penso mi sa che l'hanno anche fatta esplodere no c'è uno a piedi c'è uno a piedi là eh dove là? non riesco a spurtartelo eccove lì eccove lì vai 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 no montagne di m***** ma vaffanculo vai no 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 porca miseria grande uber no 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 stai ammirando l'opera dei poveri costruttori di questa diga però no